Ma come no? Vi hanno gacciato via? Ci hanno schienato come delinquenti, ci hanno gacciato via, ci sono le signore sopra, c'è una signora che si sente male e adesso hanno chiamato l'ambulanza. Questa è quanto? Un'ora e mezza di lavoro al giorno? Una cosa, una cosa pure volevo sapere, però si sta muovendo qualcosa? Dove? Dove si sta muovendo qualcosa? Per una proroga, può essere? Non abbiamo saputo nessuna notizia, sono tre giorni che siamo lì dentro, nessuno dice nulla, nessuno sa niente e noi siamo qui. Con la carriera Celluini, ha 55 anni, mai fatto una cosa del genere. Ho sempre lato la nostra mente, come tutte le colleghe, per arrivare un'ora e mezza di lavoro. Ma io vado a sentire vergognare io, si vado a vergognare quelli che fanno determinate cose. Noi ci dobbiamo vergognare, ma che siamo delinquenti? Ma vanno accompagnati fuori, che vanno a fare? Ci hanno gacciato, ce l'ho messo dopo, e poi ce l'ho mandato via. Accompagnate di lui. Ma la notizia della proroga per un mese, è vera o no? Un mese, un mese di proroga, ma che ci fanno con un mese di proroga? Noi di scritto non abbiamo nulla, sono 20 anni che andiamo avanti con le chiacchere. Beh, 20 anni.